Buonasera a tutti, sono Elena Valdés, la direttrice dell'Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma. Siamo oggi a Roma nel trascorso del workshop dove l'Andaluzia presenta la sua offerta turistica alle agenzie romane. Potete vedere il successo della serata, quindi vorrei semplicemente darvi le ragioni per andare in Andaluzia, molto brevemente. Prima di tutto l'accessibilità, la maniera di raggiungere l'Andaluzia con tantissimi voli diretti. E poi le città, le spiagge, l'enogastronomia, le feste, la natura, lo sport e soprattutto l'accoglienza, la gente andaluzia, il suo calore, la sua simpatia, la sua forma di vivere. È sempre un piacere andare in Andaluzia. Brava Andaluzia e aspetto che vi piaccia.